Siamo alla 38esima edizione di Anduma i Balmita, Borgo Franco, un'edizione che comincia venerdì, finirà domenica, ma parte subito con una novità. Sì, una novità, quest'anno abbiamo fatto la serata del venerdì con i Balmetti aperti, quindi una cena itinerante, ci sarà la possibilità di mangiare nelle varie cantine, accompagnati dalle note musicali della curva e dei cori alpini. Durante la serata sarà anche possibile visitare le cantine, oltre che mangiare all'interno delle cantine. Piediamo che si mangerà in ogni cantina un piatto, non si mangerà tutta la cena in una cantina? No, ci sarà un menù in cui ci saranno gli antipasti in una cantina, i primi in un'altra, i secondi in un'altra, quindi molto itinerante. E appunto girando in questo modo sarà possibile visitare più Balmetti, più cantine. Se per caso, in caso di mantempo, ci sposteremo nel padiglione, se proprio non riusciamo, però insomma speriamo di riuscire a fare questa nuova manifestazione che abbiamo organizzato quest'anno per la prima volta. E poi si riprende sabato nel segno della tradizione. Sabato ci spostiamo nel padiglione, ci sarà una cena a base di sweat grease, oltre a tutte le aree piatti alla griglia, e una serata danzante con l'orchestra spettacolo Luigi Gaglia. Domenica, sempre pranzo al padiglione con la sua padaiuche, e poi al pomeriggio possibilità di visitare i Balmetti, accompagnati dal gruppo musicale del quintetto degli Amist al Bian, visite guidate dove sarà possibile, insomma, gustare prodotti locali offerti dai proprietari delle cantine. In altri angoli dei Balmetti ci saranno i cori, alcuni cori alpini che cantano. E poi, gran finale per la serata. Con la cena sempre al padiglione, e serata danzante con i Blue Marine sempre al padiglione. Diciamo che tutte le serate danzanti sono ingresso gratuito. Anche le visite ai Balmetti sono gratuite, diciamo che se uno vuole qualcosa in più, è l'occasione magari anche per acquistare qualche vino, qualche prodotto particolare. Diciamo che l'unica cosa che noi diamo con un'offerta è un bicchiere, e chi ha questo bicchiere ha la possibilità di bere e di assaggiare nelle varie cantine. La sera invece del venerdì, se si vuole comprare il vino, ci sarà appunto il Balmetto aperto dei viticoltori, e venderanno il vino imbottigliato. Qui siamo in un Balmetto, nel Balmetto della Proloco, di un proprietario che adesso si è trasferito a Torino, e ce l'ha lasciato noi come gestione, che lo usiamo per farlo visitare a diverse gite, con i pulma, le scolaresche, e in occasione della festa lo apriamo per farlo visitare. Diciamo che cosa sono però questi Balmetti, perché la gente che non lo sa pensa sia una cantina normale, non è così, noi che ci siamo dentro lo sentiamo. Il Balmetto è un'area naturale che sorge dalla montagna, dovuta negli anni indietro da una frana, la chiamiamo una frana morenica, ci sono formati di cunicoli che esce l'area fresca, che è costante tutto l'anno, dai 10 ai 12 gradi, qualche Balmetto, e tutto l'anno, perciò quando fuori c'è 35 gradi, logicamente con 10 gradi qua dentro si sta bene, diciamo. E qui matura il vino, ma non solo? No, anche i formaggi, i salumi, una volta diciamo che era il ritrovo dei contadini del paese, una volta l'unica cosa che avevano erano i Balmetti, facevano stagionare il vino, il lattome, e la domenica passavano le domeniche qua a fare le merende. E oggi questi Balmetti ci sono ancora, è sempre più difficile comunque mantenerli, qualcuno forse è un po' lasciato andare, qualcuno invece ha ancora un bel Balmetto. Qualcuno, i giovani stanno stassando un po' in degrado, però c'è ancora alcuni che lo tengono molto bene, diciamo. In occasione, quelli che faremo poi visitare alla domenica nel giro dei Balmetti, si potrà notare come sono tenuti via.